Ancora un decesso per Covid in provincia e quanto emerge dal bollettino di oggi? Continua poi a registrarsi un netto calo di positivi. Oggi sono 5.099, meno 297 rispetto a ieri. 5.003 le persone a casa in terapia domiciliare. 65 poi i ricoverati, uno e meno rispetto a ieri. A perdere la vita un 74-enne originario di Comiso, vaccinato con due dosi, è deceduto al reparto di malattie infettive del Giovanni Paolo II di Ragusa. E salgono così a 473 le persone in totale decedute per Covid in provincia da inizio pandemia ad oggi. Ma vediamo ora i contagi per comune. A Dacate i positivi sono 127, meno 16 rispetto a ieri. A Chiaramonte sono 85, a Comiso sono 433, meno 66 rispetto a ieri. A Giarratana sono 76, 292 sono invece a Ispica, a Modica sono 808, meno 23 rispetto a ieri. A Monterosso sono invece 23, a Pozzallo sono 320, meno 11. A Ragusa sono 1208, meno 47 rispetto a ieri. A Santa Croce sono 237, a Scigli 403 e infine a Vittoria sono 991.